Benvenuto nell'EcoEfficiency Checkup Tool. Inserisci il tuo nome utente e la tua password. Puoi consultare i tuoi precedenti checkup ed i loro risultati. Oppure effettuare un nuovo checkup. Scegli come identificare il tuo nuovo checkup ed inizia l'inserimento dati. I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori. Identifica l'area in cui opera la tua azienda e specifica il settore merceologico di appartenenza. Seleziona la tua regione, la provincia ed il tuo comune. Ora puoi iniziare l'inserimento dei tuoi dati, a partire dal consumo annuale di energia elettrica. Ti vengono inoltre richiesti i tuoi consumi di metano e di gasolio. E' importante indicare la superficie occupata della tua azienda, specificando le aree adibite ad uffici, produzione e aree esterne. Nei successivi campi potrai inserire le informazioni riguardanti il personale e gli orari lavorativi. Consulta il bilancio della tua azienda ed inserisci il costo totale della produzione, il valore aggiunto ed il fatturato. Completa l'inserimento aggiungendo il volume produttivo annuo nell'unità di misura più appropriata. Termina l'inserimento dei dati specificando se utilizzi pompe, compressori e ventilatori e caratterizzando i tuoi consumi d'acqua. Prima di continuare puoi rivedere i dati inseriti ed eventualmente modificarli. Scegliendo di proseguire, i tuoi dati verranno elaborati e potrai visualizzare l'esito del tuo check-up. Per valutare la tua efficienza verranno utilizzati degli eco-indicatori, calcolati comparando i dati da te inseriti con quelli della media del tuo settore nella tua regione. Per alcuni eco-indicatori viene utilizzata una rappresentazione di tipo gaussiano. La freccia identifica la tua posizione rispetto alla media M. I colori verde, giallo e rosso rappresentano rispettivamente aree di alta, media o bassa efficienza. In base ai risultati del tuo check-up vengono elaborati alcuni consigli per essere ancora più efficiente. I consigli sono personalizzati e relativi alle diverse aree di intervento. Per ogni consiglio viene calcolato il potenziale risparmio energetico conseguibile della tua azienda. Troverai anche opportunità per ridurre il tuo impatto ambientale adottando soluzioni già applicate nella tua provincia. In questo caso viene quantificato il risultato ambientale, per esempio la riduzione di emissioni in atmosfera. Ogni consiglio è caratterizzato dall'area di maggiore influenza secondo il modello delle tre E. Ecologia, efficienza, economia. Grazie per l'attenzione. Per procedere ad effettuare il check-up inserisci nome utente e password. Se non ne sei in possesso, procedi alla tua registrazione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.